Ogni giorno, in ogni luogo di questo pianeta, c'è qualcuno che ha bisogno di noi. Qualcuno che alza gli occhi al cielo nella speranza di un aiuto. Quell'aiuto puoi essere tu. Sì, sì, proprio tu. Come puoi fare? È semplice! Vai sul sito Islamic Relief Italia. Scarica, compila e consegna in banca il tuo modulo per aderire alla campagna Un Aiuto che Vola. Costruisci un aeropalino di carta e ovunque tu sia, fai volare lontano il tuo aiuto. Cari Ilias Benaddi, l'ingegnere Nada Kabkebji e Mohamed Ibrahim, detto anche libico, anche io ho deciso di aderire alla campagna Un Aiuto che Vola di Islamic Relief, donando 10 euro al mese. Il mio aiuto andrà più lontano di tutti. Fai anche tu il tuo video, condividilo su Facebook e tagga tre amici che vuoi che aderiscano alla campagna. Ehi, non dimenticarti di scrivere l'hashtag Aiuto che Vola e fai volare lontano il tuo aiuto.